La rivoluzione energetica a Pescara parte dagli edifici scolastici, messaggio dal sapore simbolico perché è proprio sui banchi di scuola che deve nascere la consapevolezza di una città e di un mondo capace di attuare quella che viene considerata l'ultima frontiera del risparmio per contribuire alla transizione energetica. Strumento importante e potente per rendere consapevoli tutti del diverso modo di produrre e consumare energia è la CER, acronimo di Comunità Energetica Rinnovabile, che consiste in un'associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole e medie imprese che decidono di unire le proprie forze con l'obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale. Il comune di Pescara ha avuto un grande rilievo in questa avventura fornendo gli strumenti e le risorse necessarie per realizzare gli impianti. Grazie al progetto CER Pescara, la prima comunità energetica supportata da Pescara Energia, società partecipata al 100% dal comune, sono stati già realizzati diversi impianti fotovoltaici sulle scuole cittadine, collocando l'amministrazione tra i primi enti pubblici ad essere promotore nella diffusione delle comunità energetiche. Si diceva delle scuole ed è proprio dalla primaria in via Carlo Alberto dalla Chiesa, comprensivo 5, che parte il nostro viaggio. Questa è un esempio della riqualificazione energetica di tante scuole di Pescara che sono state fatte, parliamo di 19 edifici scolastici riqualificati energeticamente con il rifacimento del cappotto termico, con gli infissi e quindi scuole e per buona parte anche con il relamping interno. Questa scuola si automantiene, nel senso che è dotata sul tetto di un impianto fotovoltaico come altre sette scuole di Pescara, produce energia sufficiente per poter mantenere energeticamente l'edificio e ne produce in eccesso e questo poi andrà a fornire queste comunità energetiche. Abbiamo fatto ultimamente l'iscrizione al portale del GSE, potremo partire con la prima comunità energetica a Pescara, ma credo forse una delle prime comunità energetiche in Italia gestite dal pubblico.